L'Atalanta batte per 2 a 0 l'Udinese e raggiunge il quarto posto in classifica in solitaria. Allora, faccio come al solito alcune considerazioni tenendo conto che ormai siamo anche verso la fine del campionato quindi alcuni elementi magari possiamo anche evitare di riprenderli sempre. Prima di tutto era una partita difficile e l'Udinese finché ne ha avuto ha giocato gran bene. Ora, non fraintendetemi, l'Atalanta ha chiaramente dominato, ha chiaramente espresso un ottimo gioco nonostante avesse due partite in più dell'Udinese sulle gambe, nonostante le assenze di Ilicic, nonostante tutta una serie di fattori. L'Atalanta ha dominato il gioco ma l'Udinese ha tenuto, ha tenuto molto molto bene. Poi ci vuole anche un po' di fortuna, poi la fortuna ognuno se la cerca, Gomez se l'ha andata a cercare molto bene, il rigore eseguito poi da Derona ha sbloccato l'Atalanta, ha sbloccato la Viena realizzativa e poi siamo riusciti a raddoppiare con Pasalic. Era una partita oggettivamente importante perché tabella alla mano, ogni punto lasciato è un punto perso. dobbiamo cercare di massimizzare i punti perché, va detto, abbiamo molto probabilmente il calendario più ostile avendo sia il Torino che la Lazio nelle prossime quattro partite. Quindi era fondamentale partire da questa serie di quattro partite con i punti in più che appunto la vittoria sull'Udinese ci ha dato. Poteva essere un momento di calo, poteva essere un momento di affaticamento. L'Atalanta ha dimostrato per l'ennesima volta di essere in gran forma e per l'ennesima volta è stato dimostrato che l'idea di Gasperini di partire col freno a mano tirato ed arrivare poi a fine stagione molto più tonici è una scelta che effettivamente può risultare vincente. Sulla partita, tralasciando la scelta di non impiegare Ilicic e quella di Barro che ovviamente se poi non erano in condizione c'è poco da fare il tridente con Pasalic, l'abbiamo detto tante volte, non funziona nonostante il giocatore comunque, va detto, a me personalmente non fa impazzire ma ha avuto un miglioramento sensibile dall'inizio della stagione. Oggi è un giocatore che almeno nell'ultimo mese e mezzo il suo contributo, quantomeno in fatto di reti, si è visto. Personalmente continuo a preferirlo nella versione centrocampista anche se forse perdiamo un po' di densità ma comunque è un giocatore che anche ieri ha fatto la sua parte. Interessantissimo anche l'inserimento al 45esimo sull'inizio del secondo tempo di Piccoli io per dover di cronaca ho maledetto Gasperini quando l'ha fatto perché obiettivamente mi sembrava uno di quegli azzardi un po' esagerati ma il mister per l'ennesima volta ha dimostrato, ha spiegato al pubblico il perché lui allena l'Atalanta mentre io mi occupo di contabilità e paghe. Quindi bravo mister, continua a insegnarmi come si fa a gestire una squadra che è sempre molto interessante. Il ragazzo ha giocato bene, Piccoli ha giocato bene è evidente che gli manca ancora parecchia terra sotto i piedi prima di arrivare a un livello da essere effettivamente utile a quest'Atalanta ma è altrettanto evidente che rispetto a Barro per esempio siamo già un passo avanti innanzitutto perché il giocatore fisicamente e tecnicamente è molto più idoneo al nostro gioco rispetto a Musa e poi perché comunque è schierabile in un ruolo dove effettivamente al di là del fisico ci vuole più istinto che capacità Musa molte volte viene schierato sull'esterno comunque a prendere parla lontana ed è un altro tipo di lavoro che effettivamente è più complicato rispetto alla bocca centrale che se hai dalla tua la stanza fisica effettivamente qualcosa puoi fare quindi molto bene Piccoli speriamo poi nella prossima stagione di vedere la sua crescita perché fa veramente piacere quando l'Atalanta porta avanti i giovani e i giovani diciamo ritornano all'Atalanta questa fiducia con delle grandi prestazioni. adesso non ci resta che affrontare come abbiamo sempre fatto e come dico sempre una partita alla volta nella speranza che anche sugli altri campi ci vengano in aiuto come dicevo prima siamo in un momento in cui tutti i punti sono fondamentali e dobbiamo cercare di lasciare indietro meno punti possibili quindi tabelle alla mano ce la giochiamo due punti potrebbero vuol dire fuori dall'Europa e Champions League quasi quindi dobbiamo veramente concentrarci evitare evitare momenti di smardimento cercare sempre di massimizzare il risultato da un lato molta fiducia perché questa squadra è quella più in gamba dall'altra parte attenzione a non sottovalutare l'avversario abbiamo due scontri diretti quello con la Lazio che sarà fondamentale quello contro il Torino che effettivamente da soli daranno il verdetto sul destino dell'Atalanta che comunque in questo campionato ha fatto delle cose magnifiche e a riprova è il fatto che tutti ma veramente tutti su YouTube sui giornali, in televisione spendono parole di elogio per questa squadra e per quello che sta facendo per un attimo dimentichiamoci della finale di Coppa Italia quando sarà il momento? Ci penseremo adesso concentriamoci sul campionato perché oramai siamo una grande squadra e dobbiamo imparare a gestire la pressione derivante da più sfide contemporaneamente come al solito vi ringrazio per tutto se volete aggiungere qualcosa, se volete delle opinioni se volete dire qualcosa avete lo spazio nei commenti su YouTube o ovviamente sul sito per il resto vi rimando come sempre alla tarantini.com ciao grazie a tutti grazie a tutti